Tre mesi per una visita. È il tempo d'attesa per un paziente che per la prima volta si rivolga al centro diabetico presso l'ospedale Santissimo Rosario. Difficile comprendere e a maggior ragione giustificare una simile lungaggine. Possibile, ci chiediamo, che un malato con una recente diagnosi di diabete debba attendere fino a settembre per un primo consulto. E ancora, la terapia diabetica farmacologica richiede la periodica autorizzazione da parte del medico specialista all'utilizzo di certe tipologie di insulina. In caso di necessità di rinnovo urgente, il dover attendere tanto tempo per una firma su un modulo, indispensabile ai fini della prescrizione del farmaco salvavita, costituisce un problema la cui entità è facile da immaginare. Perché accade questo? Certamente l'emergenza pandemica e la necessità di evitare assembramenti negli ambulatori ovunque ha determinato un rallentamento nella effettuazione delle visite specialistiche, con i danni per la salute pubblica ampiamente riportati dalle cronache nazionali. Ma, forse, in questo caso si è esagerato nel dilatare la frequenza degli appuntamenti. In qualche frangente, ci riferiscono alcuni pazienti, l'ambulatorio di diabetologia è pressoché deserto, mentre, al piano di sotto, decine di persone sono ordinatamente e serenamente in fila per il vaccino anti-covid. Una disparità di gestione del servizio di assistenza sanitaria nella stessa struttura, a usare un eufemismo difficile da comprendere. Mentre vergavamo questa piccola riflessione, arriva in redazione una segnalazione, ahimè, dello stesso tenore. Un anziano signore, ci racconta, anche lui a microfoni spenti, lo scorso marzo aveva prenotato una visita cardiologica presso il menzionato ospedale Barra Casa della Salute. Fissata a fine aprile, qualche giorno prima, l'uomo a mezzo SMS è stato avvisato dell'annullamento dell'appuntamento causa malattia del medico specialista. Di buon grado è effettuata nuova prenotazione, questa volta fissata al 9 di giugno. Ma ieri, per l'anziano, già in attesa da tre mesi, una telefonata dal centro prenotazioni, mediante la quale, ancora a causa della sopraggiunta indisponibilità del medico di qui sopra, si comunicava l'ulteriore annullamento della visita. Per il malcapitato e per gli altri prenotati per quel giorno, ammesso che tutti loro, ma non è scontato, vogliano continuare a nutrire la speranza che la successiva possa essere la volta buona, c'è la necessità di ricominciare l'iter da capo con una nuova prenotazione. Anche in questo caso, la stessa domanda di prima, com'è possibile? Per le risposte, superando il comodo non possiamo rilasciare dichiarazioni se non autorizzati dall'ASREM, da parte di chi è all'interno dell'ospedale, sarà appunto il caso di chiedere direttamente e più facilmente al direttore generale dell'azienda sanitaria regionale, dottor Oreste Florenzano. In conclusione, anche noi siamo fermamente convinti della necessità di evitare la chiusura e di salvaguardare il Santissimo Rosario, ma se il modo di funzionare o di non funzionare dell'ospedale per cui i venafrani sono scesi in piazza e hanno fatto barricate è questo, beh, qualche dubbio viene.